Oggi abbiamo inaugurato finalmente dopo 11, 11 anni la Cittadella dello Sport che sostanzialmente sarà un polo di eccellenza per lo sport sia per i normo notati che per i disabili è un esempio di struttura nel quale l'inclusione è sostanzialmente la parola di ordine. Siamo contenti che sia stato finalmente portato a termine questo lungo lavoro è frutto dell'impegno non solo del Comune di Roma ma del Comitato Italiano Paralimpico, del FONI, il Ministero, la Regione insomma devo dire che tutti quanti abbiamo collaborato per riuscire ad arrivare a meta oggi e ad aprire insomma secondo me questo è un bellissimo esempio di come la collaborazione, come quando si lavora come una squadra insomma si raggiungono ottimi risultati. Grazie!